Ciao a tutti in questo nuovo video, io sono Filippo e oggi stiamo su Browstars come potete vedere Ciao, Leon, adesso vi farò vedere tutti i miei brother Partiamo dal primo, Jesse, Luca, Leon e partiamo con i primi, sì Il primo, il primo forte, il primo cadet è Frank Oggi sono con i miei fratelli, saluto Ciao Ciao Vabbè, comunque adesso partiamo pronti ok adesso avremo una partita football poi andremo su altre mappe se volete il prossimo video se ho la connessione non urlare ah non urlate se sentite l'avevo sempre tutta forse colpa del microfono molto colpa del microfono un poverotto bitto ho capito ho visto una rosa là in mezzo alle rose perché una rosa ci dimentica ok ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo parigata dobbiamo vincerla perchè ragazzi se li sciamo potremmo passare dietro, dietro, dietro vuole fare un gol ragazzi dai cerchiamo di continuare con me secondo me potrò infatti il mio fratello vi ho spoilerato non posso ragazzi aspettate un attimo ragazzi non ho trovato niente adesso proviamo un bel modino dai schiacciate pronta abbassate i volumi se no si sente troppo la vita dai schiacciate pronta ragazzi dobbiamo vincere ancora queste ok quattro vittorie e che lo vince quattro vittorie con un bombardino ok ok tu occupa dei tic c'è un santo ma fai schifo come difensore vuole un attaccante ah ragazzi che scuola ti fate dite come ho ricordato i miei fratelli vittorie sono sono bianco non 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 che schifo che schifo che schifo non 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 c'è una commissione incredibile da sopra ragazzi scele ripetizione l'hanno portata scusate guardate ragazzi guardate 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 ragazzi adesso cercherò di far lontare i miei fratelli vabbè cosa? oh dove sei zitta aspetta le cose zitti è finito se ne prego dammi la mano parla lì passa qua vabbè vabbè piuttosto vabbè Gli struggi, uno tira. Comunque chi lo vuole sapere, con Jesse, si chiama Uberico, quello che gioca con un corte è solo con un angelo, e invece si gioca con Chilo Ugetto. Ragazzi, ditemi i miei commenti, se vi succede sempre il video, potete fare l'ultimo giro, l'ultima vittoria, se è praticamente l'ultima vittoria e morite sempre. Mori, vittoria, 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 vittoria. Ok ragazzi, vediamo in diretta, vediamo in diretta la cassa di Michelangelo. Va bene, non ho trovato niente. Non ho trovato niente. Tutto bene, vi faccio vedere chi ciò, la fantastica TENNA! Let's go! Siamo pronti? Sì sì! Sì sì! Sì sì! Sì sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.